Noi sostegno per gli autonomi, per cui ci dispiace che sia così risicato il provvedimento. Se ci sarà una misura per le famiglie che hanno a carico un disabile sarà grazie al frate digitale e abbiamo chiesto che venissero finanziati quegli laboratori militari nei quali si producono farmaci perché l'Italia possa essere autosuppertata.